Come on! Non ricordo assolutamente niente Ma adesso sono, credo, talmente abbastanza forte Da poter prendere a cazzotti sti stronzi Oh bello di casa Vediamo un po' Sì, sì, riesco Vediamo quanto mi fanno Mortacci vostra Sono ancora fortini, eh Però comunque me li spacco tutti quanti Yes Prima gli rompevano il book Oh bello Beccati il mio arcone megagalattico Tiè, guarda quanto le ho Dunke Shen Allora, allora, allora Lì c'è un King Krabby Patty? No, c'è un Krabby Patty normale Brutto, schifoso Essere in mondo Muori, muori Mi è stato detto che se uccido i mostri Ah, io rimbalzano le armi Se uccido i mostri con il Minion Oddio, sembrava un alveare Se uccido i mostri con il Minion Ci vado a, come dire A perdere il drop Quindi non li uccideremo Ah, una cosa che devo da fare Oh, ciao Creeper A parte il Creeper che lo posso uccidere così Aio Strunzissima Vabbè, non fa niente Sei morto, morto No, non attacchiamo questo Perché c'è un botto di vita ancora Volevo fare Mi sono dimenticato Ah, tra l'altro Grazie per il suggerimento Guardate che Guardate che Ma Non lo fa più Oh my god Si è rotto Prima lo faceva Shift Control X Ok, adesso lo fa Possiamo renderlo Floaddante Disabilita Guardate che bello Very well Oppure possiamo farlo sembrare quello di Ocarina of Time The Link of Zelda The Legend of Zelda Scusate Possiamo metterci Light Bean No Voglio metterci Light Bean Unable Oh my god No, forse è troppo così È molto, 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 molto carino Quando un giorno andrà di costruire Certo ci posso mettere solo ste spadacce del Kaiser Però vabbè Comunque Ho preso gli Ice Stone Ottenuti Recentemente E Possiamo crearci Questa spadozza qua Vediamo se è più migliore assai questo o questo Chissà soprattutto se si può inciantare Andiamo Oh Sei calmo Vediamo un poco Oh, piove, governo ladro No, non si può inciantare E vabbè Allora mettiamo questo qui E vorrei metterci il looting Looting 3 Quanto mi costa? Add Perfetto Perché così almeno qualche drop Me lo, me lo ciuscio Ecco qua un Creepy Prapi Tappiti Ce ne sono due Addirittura Ok, vieni qui No Merda Merdissima Bello di casa Allora facciamo così, eh Ok Dovremmo essere al sicuro Vieni qua Bravissimo E adesso Ci metteremo soltanto 500 anni Devo dire che Il ruolo della viaggia È un po' troppo forte Ma se intanto Lo uccido con questo Muore Muore Mi sento ancora Ah, vediamo quanto fa questo Oh, fa 15 L'immortacci Ma è una cosa poterosissima E gli dà che cosa? Tipo un malus Gli dà slowness E mi dai quella cosa Me l'ha data Me l'ha data Me l'ha data Me l'ha data 9 di questi Woohoo Me l'ha data finalmente Sono 50 puntate che ci provo Aiuto 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 Ok Quindi possiamo sbracare la gente con questa Woo Woo Ehi 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 Devo dire che vedere 15 a Minecraft è good Davvero 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 good Dai Coraggio Coraggio per i nostri amici Frodo Sì Bello de casa Forse neanche Chissà quanti danni mi fa Mi fai danni? Beh Non è che fa pochino Effettivamente Lurido Schifoso Ok Andiamo di martello È morto È morto È morto Sì Ce l'ha dati Ce l'ha dati Ce l'ha dati 15 Vediamo quanti ce ne servono Allora Con 9 di questi Facciamo uno di questi Un lingotto Io voglio fare l'arma non plus ultra Che è 3 Oh mio dio 5 E 8 Quindi ce ne servono Ehm 81 9 per 8 Cassiopea Ma sto morendo di Fem Ci sono altri King Krabby Patty? Yes Vieni qui da Papelino 2 Ecco qua Ciao Ciccio Vieni qui Ciccio Pem Bravissimo Bello de casa Vieni qua È così carino Sì 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 Questa puntata Ho detto Che avrei Sarei andato nel nader Però Non lo so Mi hanno detto Tutti mi rialano il culetto Quindi volevo farmi Quest'arma Molto super figa Ah bello E vieni Vieni qui Vieni da Papà Marcus Ok ci dovremmo essere Muori 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 Woohoo Chi è che ci ha sparato Frecciozze? O ero io Io me medesimo Oh no Con quest'altro Con quest'altro Ci ha dato la chela Chele che in polpelmo Faccia mele Allora Una balena Una balena ottera La balena Ci interessa Perché ci dà Le scaglie di balena Però il problema Della balena grande È che Si muove Quindi se io adesso La butto verso La spiaggia Chissà cosa succederà Bella de casa Vieni qui Vieni qui Vieni qui Vieni qui Ma 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 Una balena Mena così Ma dai Ma stiamo scherzandolo A belli de casa Mi fate niente Ah ah Sei rimasto sulla spiaggia Ti sei spiaggiata Eh 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 Adesso i tuoi amici giapponesi Cosa diranno eh Eh Col tasto destro Fa qualcosa Sto spada No Devo dire che è buona Sta spada Comunque Ah io Ma come fa a menarmi La balena Cioè che fa Mi fa l'attacco schianto Dei pokemon A parte che Basta che faccio così E la balena Non è più un problema Stupida balena Non avrà il mio scalpo Aspettate Facciamola passare La strunza Ok Ah io Che dia What Aiuto Ma che cazzo era Ma che cazzo era La balena Colpisce a distanza Zan 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 Whale attack Dan 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 Mori Gli va Dun da mori Ahio Tu muori Immediatamente Schifosissimo essere Adesso prendiamo La cazzo Taus Col martellone Con looting Che ci ha dato, che ci ha dato, che ci ha dato, che ci ha dato Uh, ce l'ha data, uh, sto morendo Di corsa, di corsa, anzi che di corsa Ragnateli amo, yes Andiamo qua sotto Andiamo a dormire e a controllare quanto abbiamo No, 21 ancora, 21 però, 4 scaglia di balena Con la scaglia di balena, di cui ne abbiamo già addirittura 6 Very good Possiamo farci questo, non ci interessi E mi suona il citofono Eccomi qua, erano i miei simpatici vicini Oh, ci sono mostri nelle vicine Oh, no, 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 aspettate, aspettate, aspettate Che cacchio, quello lì non so come levarlo Non dovrebbe intendere un NPC che ti vende delle cose come un mostro Erano i miei simpatici vicini a cui serviva una cosa Mi sono sempre chiesto Ma questi, uh, penseranno che sono un pazzo a parlare da solo Ha finito di piovere intanto E' qua giù che accade Oh, 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 che diavolo What? Oh, ma che figo Oh, 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 oh Ma che cavolo Ma tu chi sei? Dove vai? Dove vai? Un fiorino Mortacci, che figo Sta prendendo fuoco No, mi fa cascare l'arma Dov'è, 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 dov'è Non deve morire per colpa della luce Devo ucciderlo Chissà che drop mi dà E' un rare Miner Miner Che mi ha dato, che mi ha dato, che mi ha dato Un elmetto Beh, grazie, fai schifo Ok, rieccoci qui Siamo stati interrotti e dai vicini e da Nuba Ma Nuba, a differenza dei vicini, ha portato cose buone dal mondo E noi ce le siamo spaccate tutte Ovvero un kebab Mio carissimo amico Sei morto E anche tu Oh, cazzo, ma questo è un Tipo super potenziato Iropperbook Che diavolo è successo? Uh, un pezzo di armatura No, non mi fate niente Non mi fate niente Sono troppo forte Quello è un Krabby Patty grande o un Krabby Patty piccolo? No, è grande Ma che è? Poison Poison E quello è un Krabby Pattone Yes Allora, facciamo così, così, così Ce ne sono due di Krabby Pattoni Very good No, ce ne sono tre Basta Facciamo Che mi metto così Anzi, voglio, però devo fare così Guardate Spizzate la situation Oppela Oppela Oppeli E dovrei poterli vedere tutti E loro non poter colpire me Ah, ah, ah Sono un genio del male Eeeh Spatapim Vieni, Kikko Kikko Kikko, dai, eh Su, namo Eh, salito sopra Levami quelle brutte Che lacce di dosso Ah, mori Vivo avido Ok Vabbò Io mi metto a uccidere un sacco di Krabby Patty Fino a quando avremo 91 di Aquapallets Ciao, ciao C'è anche un ragno Porterà a guadagno Ta 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 Aiù Mortacci tua Quante me la date Quante me la date Quante me la date 27 Oh, ma prima ce l'ha andata tipo il massimo Sto lurido Mori Oddio Paura, 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 paura Schifo Schifo Vabbè, a dopo Zanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanz Non salgono, vero? No Ok Pem Oh Oh 800 L'imortarci Ma quanto affitti? Ma come fa? 800 Avecci uno squalo E un cetriolo che esplode C'ha 10 Dai, su Però a forza di arcade potrei ucciderlo Mortacci chi? Diavolo, cosa? Quando? Ah, ste frecce sono rimbalzine Vediamo quanto gli faccio con questo Oh Via, 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 via Ok, ok Ok Verigene Oh, oh E' impazzito, si è mosso, è salito sulla riva Accor uomo Oh, cristina d'avena Ta, ta, tara Aiuto, aiuto Sarò un coglianazzo Aiuto, 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 aiuto Scappa Veloce C'è un nemesis Velocissimo Ok L'abbiamo Prendiamo No Yep Prendiamo questo che è più carino Dice una balenottera Eccolo Ah, lurido Luridissimo Non salire sopra Ti prego Dov'è finito? No, ma perché mi colpisco con le frecce? Tiu, 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 tiu Full chain Oh, oh E' impazzito Perché? Perché dovrebbe salire su? Dai Ma che c'ha i piedi? Mi ricorda Sharkman Il film recensito da Yotobi Ma striscia Ma è un verme Ma è un serpente Non è uno squalo Qualcuno mi aiuti Aiuto No, ma come cazzo è possibile? Non c'ha senso Non c'ha senso Aiuto Adesso Voglio verificare una teoria Secondo me si arrampicano Tipo sono squali Squali serpente O qualcosa del genere Ok E' aggressivo il tizio? Non lo so Vediamo un po' Eh, mo ti attacchi riccamente allo zufolo Lello Haha Ma 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 Dove? What? Ok Ok, posso farcela No, aspetta così lo uccido Oh merda Oh merda Merdissima Merda Muori, 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 muori Shark attack, muori, muori Quattro pinne all'orizzonte E gli street sharks Na 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 Che cacchio c'è E faccio Interessante Beh, non ci faccio così niente 11.000 damage Sti cavoli Voglio fare un'arma che C'ha mille milioni De damage in più Cioè questa qua 22 Beh, forse è più facile Ma forse Chi se ne frega Ok, siamo arrivati a 54 Ragazzotti Mancano qualche Crabby Patty A parte qualche Suntuosa morte E ce la facciamo A parte non mi potrei mettere il funghetto Però il funghetto costa Guardate quanto è balenottero Quante balenottero Ehm Crabby Patty Qui Crabby Patty Qui Piccolo Crabby Patty Un porco Un Crabby Patty Un patti piccolo Ah io Che cazzo Dove Cosa Ma che diavolo sta succedendo Ma sono comparse all'improvviso Eh ma ci sono delle regole in Minecraft Non potete mica ovviarle Andiamo da quel Crabby Patty Tra l'altro si sta per rompere l'arco Vabbè che è fatto tutto di ferro Quindi chi se ne frega Però Taratata E dicono tutti che c'era la smart moving Può darsi Ma non so come si usa No ho fatto uno screenshot Non volevo fare uno screenshot Se questi due ci danno 9,9,18 E 54 Comunque non ce la facciamo Però Sarebbe figo Quindi facciamo così 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 E picchiamo ciccio 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 Oh Ti sei incantato Vieni qua Da paparino Ok Continuo farmando Oh Sto bucio di culo è incredibile Mi prende 91 di questi Sto a 66 Se non sbaglio Vediamo Hop Vai col martellozzo E vai Scusate ho tirato questo Perché stanno nell'acqua Stiamo a 64 Me l'ha dato pochissimo Questo Là che c'è Uno squid Ah mi hanno detto Che si faceva l'armatura di squid Ehm Ink sack Vediamo Black steel Con il black steel Non ci si fa un cassiopea Black block Un cassiopea Drakenscale Ah giusto Con lo squid Si fa il dragensaying Con il dragensaying Si fa il dragenskin Il dragenskin Si fa sta armatura qua Il kraken Scusate Non il draken Draken era un gioco A cui giocavo tempo addietro Hmm Andiamo a cercare qualche altro stronzo Qui ci sono un sacco di balene Devo dire che le balene Oh oh Perché adesso sto nuotando Ah perché c'ho il Oh mio dio Ah 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 Tiauu Che figo Fantastico Però è notte E devo dire che Quando è notte È pieno di stronzi qui Ah bello de casa Non esplodere Te rompo il buco prima Marco scrancò tra tutti Tu hai un arco Questo è un arco Ho sempre disegnato martellarti In casa mia Questo è un ritmo Martellante Ah 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 La dov'hai con qua cosa Che c'è in mano Sparisci lurido Ok Allora mangiamo E facciamo fuori Quest'altro piselletto L'unica cosa che c'abbia È che qui È pieno di rompi coglioni Ce ne sono altri? Per ora Uccidiamo il Krabby Patty Il Krabby Patty Intanto Gnuba Che mi sente Potrebbe portarmi Un Kinder Fettalatte Per dire Mi ha sentito? Ma avrà sentito? Oh oh Underminer Anderminer Chissà che Troppa L'Underminer Più Ma lontano E più Arrivano stronzi E io ho molta valore degli strozzi Allora 34 19 Vai di martello Non posso Interessarmi a te mio caro No non mi ha dato niente No che sfigazza Un crabby patty ucciso così a buffo E vabbè E vabbè E vabbè Oh ma noi abbiamo un Un fantastico quinterfetta al latte qui E' squagliato Però è sempre un kinderfetta al latte Mmm Mmm E' squagliato E' squagliato E' squagliato E' squagliato E' squagliato Dammi un po' Quanti cazzo chiede E' postati E' Andato a giocare io un po' Guarda che strage Chi è Quando uno zombie Incontra un Marcus Cron Con la spada Frozen Quello zombie E' morto di nuovo Ma che dai di interessante tu Cioè da dove vieni Che mod ti introduce Vabbè basta All copiate A Terraria Da Terraria Tararara 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 Andiamo a dormire E riproviamo Un Enderman Vieni qua Che te roppa il buco Che carino Oh 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 Mortacci vostra Mortacci loro Mirano come fabbri Questo come sta messo Io ti do una botta Ma No Aiuto Oh Ma non riesco a colpirlo Ma chi è che mi dì la freccia Paura Ok No Dovrei capire Dov'è il tizio E mi tira frecce Vabbè ma lontano Eccolo Dai Mi dai un Ender Pearl Grazie Ma dov'è Eh Ma Ma C'è qualcosa che non va Chi è Testimoni di Geova Aprite la porta Ma che What C'è un tizio C'era un tizio invisibile Vabbè ma capito Ti piace vincere facile Oddio Oddio Sì come Qui c'è gente che muore Vabbè Si è fatto giorno Andiamo a uccidere qualche Krabby Patty Ehi Mr. Krab Devo dire che farmi un'arma Un'arma decente A questo gioco È davvero 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 Barboso Una balenottera Ciao balena Bru Dai vieni qui Dai Dai coraggio Dai avvicinati Perché non corro più come prima Boh vabbè Vai giù Vai Vattene 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 Sali su Sali su Pem 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 Sali su Sali su da brava Vabbè Oh 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 Attenzione alla balena La balena è dangerous È very dangerous Vieni qui Balenottera Dai sali Brava Bella De casa Devo dire che sebbene Sappia perfettamente Che queste cose Fanno un botto di danni Non riesco Averne Timore Sono così Ridicole Vai a cagare Schifa Aio Scusa Non volevo Com'è buona lei Balena 15 31 6 Patapim Aio L'ho presi Un ender shark Ma l'ho presi Quei cosi Scusate Dove sono finiti Eccoli qua Uno solo Vabbè ho capito Che schifo Mangiamo un po' di questo Lì c'è un pollo E andiamo a cercare Un crabby Un nostro amico crabby Tu sei Un crabby piccolo Non ci interessi Intanto c'è un gnuba Che smarmaglia biscotti Come se piovesse Guardate tutte le mie costruzioni Onde evitare di venire Piallato nel sederino Eccolo là Un crabby pattone Parabam 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 Allora Ci vuole spazio Ultima frontiera Questi sono i viaggi Interspaziali Della nave intergalattica Dell'Inter Che ci facciamo con questo? Un Ender Stone Che ci facciamo un Ender Stone? Ci facciamo Lord Horn Che non so che cazzo è Lender Helmet Infinite Use Bene Questa mi piace Full Set Explosion Protection Non male Legendary Ender Haze Che ti fa Lender Sword Very good Molto interessante Ok ciao Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ehi Marco Oh 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 Ma che cazzo è il più forte Cioè Il super potenziato mega cazzo Oh mio dio Oh mio dio Fairy Darkness Poison Lifesteal Ma come faccio a beccarlo? Cioè sto tirando completamente alla cieca Eccolo Ogni volta che lo compisco mi fa blindness Preso Liscio Dai però così è difficile Blindness E mi da fuoco e mi avvelena Che luridata C'è un modo alternativo per ucciderlo? No non mi sembra Quindi andiamo così Liscio Preso Liscio Preso Liscio Preso Liscio Preso Liscio L'ho ucciso? Adesso vado a ucciderla a menate Siete pronti? Giù Ok Vai col martello Martellozzo Che ci darà? Che ci darà? Che ci darà? C'è un pezzo di armatura E basta Ah grazie Un'armatura di cosa? Di pelle Grazie Gentilissimo Allora Basta A telecamera rispetto E vado a uccidere altri di quelli Ok Ne ho uccisi altri tre E poi ovviamente ne ho trovati milioni di miliardi Vediamo un poco Vediamo un poco Vediamo un poco Un due tre Qua Poi Otto Erano otto? Fatemi vedere No erano nove Sì erano otto Erano otto Quindi questi mi avanzano Che nabbo di merd Ho fatto male i conti Allora mettiamoli nella cassa con le cose strane E questi li mettiamo a cuocquere Ok ok Intanto andiamo di qua A vedere se è tutto coltivato Qui manca un paio di cosine Qui No cassa Ragazzi Io non capisco perché questi Arrivino qui No 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 scusate Eh che cazzo Devono rivedere le norme dello spawn Siamo quasi pieni Che bello comunque Allora Andiamo a vedere cosa ci serviva Volevamo fare I Aquatic Ok Andiamo a fare questa Ah uno stick e basta E l'Aquatic Ha ingot Molto bene Quattro di questo Quattro di questo Taradatan 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 10.000 usi Questa c'ha 10 E 4.000 usi Beh Direi Very good Vediamo quanto è figa Tiè C'ho tipo Ma che cazzo di roba è Sembra uno di quegli stemmi fiorentini Oh fiorentina Saliamo di qua su Eh Saliamo di qua su Ok Andiamo a vedere se si può enchantare Yes Cazzo Questa diventa davvero Davvero Rompiculi Allora Potrei tenere questo qui con Looting 3 Oggettiva Mount E metterli a questa Smite 3 Smite 5 Perfetto E metterci E metterci E metterci Unbreakable 3 Che non abbiamo Però Davvero Ero convinto Un ragazzo mi ha scritto Basta che tu Desentanci il piccone E ti da E ti da E ti da E ti da Il Eccolo Ah si fa così Ma che nabbo Tu gli devi dire che livello vuoi elevare E ti ridai Ti ridai Ti ridai l'esperienza Ma è fantastica questa cosa Che spettacolo Adesso abbiamo 34 Di esperienza E quindi posso mettere Tecnicamente Questo arco lo devo rifare Che palle Qui sopra ci posso mettere Un sacco d'altre cose Ad esempio No back No No back mi sta sulle bolle Perché non posso scendere? Fire aspect Non ci interessa Io ci metterei Unbreakable A livello 3 Che costa 18 Ci rimangono 16 Per metterci Per metterci Per metterci No va bene La teniamo così Andiamo a vedere Quanto fa male Prendiamo Prendiamo appunto Di riferimento Un Scrabby Patty Andiamo Dai Ho un Scrabby Patty Scrabby Patty Allora gli facevo 15 Prima Andiamo quanto facciamo 28 Ma che cazzo di figata Oh 41 Sprint Siamo forti Ok 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 Signori siamo pronti Nella prossima puntata Andiamo intanto A rompere il book All'omino Focaccina O almeno a provarci Ah una cosa Visto che ci siamo Visto la mia memoria A breve termine Me lo ricorda soltanto Molto dopo Quando lo devo fare Io te rompo il book Te rompo il book Vieni qua Vieni qua Schifo 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 avido Ho paura Ho paura Ho paura Ho paura Qualcuno deve centrare Ok Ok Dov'è Ciccio? Ciccio Dove sei? Ragnetto 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 Eccolo Lui ho paura Attacca il bolso Ma Che cazzo fa Legge nel pensiero Oh Enderman Spider Tu leggi nel pensiero Na 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 Se riesco A colpite Ok Abbiamo preso un altro Di questi Schifishard Mi hanno tutti Consigliato Di fare Questa qui Con la Realmide Di fare Questa Spata Qua Eccola qui Che in realtà Io ho detto Ma che pippa Su In realtà Loro hanno detto Ah Marcus Aspetta un momento Guarda che succede Se premi destro E io ho detto Vabbè Che succede Se premio destro Non ho capito Le passo Mio marito Tecnicamente Dovrebbe curare Però non ho visto Significative Curazioni Andiamo a prendere Le stecche Da qualche Mostro Qualcuno Mi vuole dare Una stecca Una stecca Grazie No Mi devi prendere Però Bello De casa Vieni qua Si Tanto non riuscirete A farmi Assolutamente niente A parte Un'esplosione Ok Dovrebbe curarmi Vediamo Boh Siete dei pacchi Non funziona E' rotta Mi dimentico Che quando sono pieno L'inventario Cioè Non prende I gold O stelarvete Vabbò Ragazzotti Nella prossima puntata Come stavo dicendo Per l'appunto Andremo A rompere il book All'omino focaccina Sperando che lui Non lo rompa a noi E Ma soprattutto Vorrei andare nel nader Quindi Ci vediamo Nella prossima puntata Della Shalacraft Guarda quanto Siamo fighi Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Grazie a tutti